Oggi è il momento della verità, siamo qui su Football Manager 24 con il nostro Bari e il nostro maestro Gianpaolo. Ebbene sì, perché abbiamo i Cagliari che dovremmo fare un po' di turnover in vista della partita di ritorno di Europa League contro l'Eintracht Francoforte. Quindi ecco perché sarà il momento della verità. Ebbene sì, perché abbiamo l'Eintracht, la partita di ritorno. Allora, visto che qui volevo fare un po' di turnover, potremmo mettere Scarlett, potremmo mettere Johnson e Zeffi oggi riposa, mettiamo piuttosto Chaka. Anche Iliev, metterei Guzman e Rodriguez. Io lo vorrei mettere... Allora, Schmidt non può giocare. E il problema è che mettiamo qua Jim, ok, e fino a qua tutto a posto. E poi Rodriguez, per forza, per forza, non c'ho altro che posso fare. Su questa fascia pure Marcelo, su quest'altra invece il buon Salvatore. E Corbo e Cittadini, mettiamo... Mettiamo Mele, Mele e Cittadini. Quindi si può fare, si può fare. Sì, lo so che è infortunato. Vabbè, ma cambiamelo tu, ma cambiamelo tu. Già ho troppi pensieri in questo momento. Anche perché chi mi può sopportare? Nessuno. Quindi va bene così. Andiamo contro il Cagliari, che sta a diciottesimo. Quindi dovrebbe essere su da carta. Badate bene. Sulla carta. Una partita, non dico, difficilissima, però insomma, come dire, non si sa mai. Tra l'altro il Cagliari che ha il Diz titolare, il che insomma, insomma, si vede che in questo gioco non è molto ben cresciuto. Perché se gioca il Cagliari diciottesimo, il Diz, ci sarà un motivo. Allora, io questo turnover onestamente mi fa un po' paura. Mi fa un po' paura perché col Cagliari non si può perdere. Non si può perdere perché sennò sarebbe veramente un gran casino. Male che vada, posso accettare un pareggio perché c'è il turnover. Ma non posso perdere. Vorrei vincere, onestamente parlando. Sperando in una qualche ottima prestazione che non sta arrivando perché siamo al quarantesimo. E ancora non si è visto praticamente niente. C'è proprio il silenzio in questa partita. Non c'è stato nulla. Rega, io sono un po' amareggiato. Guzman, vabbè, te la fai piacere perché è così. Sono comunque amareggiato anche se tu sei dispiaciuto che l'ho detto, ma la verità... Ah, rega, ma si può fare qualcosa in questa partita? O si deve star qui a farlo 0-0 senza manco un tiro in porta? O meglio, i tiri ci sarebbero anche stati, ma... Ma noi non li abbiamo visti questi tiri. E questo è un po' il problema. Non li stiamo vedendo questi tiri. Ragazzi, allora, sveglia, 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 su. Vai, almeno un gollettino. Non chiedo. Guzman, Guzman, ti prego. Prima azione al settantesimo. No, Guzman, no. Non ci credo, era buonissima. C'era l'idea, c'era, c'era. Ci siamo, ci siamo. Abbiamo rischiato di passare in vantaggio. Allora, rega, allora, con calma. Ciaka è un po' stanco. Mettiamo Zefi. Tanto per gli ultimi dieci minuti possiamo mettere anche un po' di titolari, che non c'è problema. Tanto alla fine va bene così. Johnson non posso cambiarlo. Metto, 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 metto Iliev. Sì, mettiamo Iliev. E poi chi posso mettere? Ma in realtà, in realtà nessuno. È quello un po' il dramma. A centrocampo siamo veramente cortissimi ora, siamo veramente stracorti. Con gli infortuni di Smith e così via, siamo cortissimi. La coperta inizia un po' ad accorciarsi. No, no, ragazzi, 88esimo. Io non posso vedere il gol del Cagliari all'88esimo dopo una partita con un'azione. Non posso. Non posso. E invece, e invece mi sa che posso. Tra l'altro, nel momento che ho messo i titolari. E quindi mi chiedo, ma che, ma cosa mi rappresenta? Cioè, vabbè, tra l'altro assist di Hildiz, di cui stavamo parlando poco fa. Bene, raga, che dire, cioè, bene. Perdiamo col Cagliari 1-0, sconfitta devastante a livello mentale. Perché, insomma, inizia a farsi dura, eh. 32 punti, siamo sempre a più 11 dal Sassuolo. Però, eh, però, ragazzi, così è brutta. Così, veramente, è brutta, diciamo. Scarlett, al posto di raccontare della furia, gioca a calcio. Ti prego, gioca a calcio. Ne ho bisogno. Cioè, questo va a raccontare. Ma pensa a far gol. Ma pensa a far gol, porca miseria. Vabbè, comunque, buona affluenza. E ci mancherebbe. E, allora, io dico la sincera verità. Questa partita mi fa un po' di spavento. Perché, insomma, se dovessimo perdere questa, diciamo che sarebbe un'annata abbastanza negativa. Ovvio, non c'era l'obiettivo di vincere questa Coppa. Però, insomma, mi sarebbe piaciuto. E quindi, quantomeno riuscirci sarebbe tanto bello. Però, è praticamente impossibile, a dirla tutta, eh. È praticamente impossibile. Cioè, non c'è modo, secondo me. Incontrista, non posso metter nessuno. Rodriguez, giochi adattato anche oggi. Io non posso far niente, purtroppo. Io non posso far nulla. Mettiamo corbo. Corbo o mele? Eh. Perché, comunque, mele ha una buona, ha una buona, come dire. Con cittadini si trova molto bene. Sarebbe un peccato. Eh, sì. Sarebbe un peccato. Allora, lascio così. Mele, cittadini. Mi posso portà, mi posso portà. Chi mi porto? Nessuno. Nessuno. Gueguen. Portiamoci Gueguen. No, dicevo, sono un po' impaurito perché, insomma, se partivamo sul 3-1 per noi ero abbastanza tranquillo. Che poi anche lì, tranquillo, insomma. Ma, esserci fatti recuperare da 3-1 a 3-3, mi dà un pochino di paura, a dirla tutta. Perché questo gioco è un pochino, è un pochino inaspettato. Onestamente. Mi sa che si è bloccato la registrazione, tra le altre cose. Molto bene, molto bene. Devo dire che è sempre una soddisfazione. Ok, ci siamo, ci siamo. Bari contro Eintrath. Francoforte. Partita difficile, molto difficile. Però siamo in casa. Siamo in casa. Veniamo dalla brutta batosta di Cagliari. E vorrei evitare un'altra batosta. Mamma mia. Mamma mia il rischio. Il rischio che abbiamo corso qua. No, a parte tutto, vorrei andare avanti in Europa League. Il più possibile. Uscendo al massimo con onore. Con rischio di avercela fatta. Quindi vorrei tanto andare avanti. I quarti di finale sono concreti sulla carta. Chiaro che poi per arrivare in fondo ci vorrebbe tanto altro. Però vediamo oggi come va intanto Viglialba. Bravissimo Zanoli che la spazza via. Iliev. Zanoli. Per Rodriguez. Con calma, con calma. Raga, si può fare tutto se vogliamo. Zanoli. Marsello. Marsello, buono lo stop. Marsello, ce l'ha ancora lui. Nicola! Nicola Iliev. Il Bari è in vantaggio. È in vantaggio. Gran bel gol. Veramente gran bel gol. Andiamo a lodare la squadra perché Abbiamo fatto veramente Una gran cosa. Una gran cosa. Però non sono ancora tranquillo. Anche perché 4 a 3 Non è sinonimo di tranquillità. Comunque Il primo tempo finisce così. Sono contento. Però Però Continuiamo così ragazzi. Ce n'è un bisogno veramente mastodontico. Che è successo lì? Vabbè, vedevo delle cose brutte sulla game card. Capture io. Vabbè, comunque. Tra l'altro ho visto un Di Lorenzo selvatico all'entrad francoforte. Zanoli Bravo! No, perché ha avuto un attimo di terrore. Nicola Per Zefi Zefi Ma dove la spara Robledo? Un errore così da Robledo? No Non lo posso vedere un errore così da Robledo io, eh. Non lo posso vedere No, vabbè. Non ci credo. Non ci credo. Qui ragazzi Mkhitaryan Poteva fare molto meglio. E Qui si poteva fare molto, ma molto meglio. Ma moltissimo meglio. Cioè, l'abbiamo regalato questo gol, eh. A mani basse. Comunque Mkhitaryan non mi convince. Non mi convince. Rodriguez è stanchissimo. Che cavolo ci metto io? Guzman è il tuo momento. Anche Jim è stanchissimo. Cortinovi. Siamo senza centrocampisti. E che è molto complesso. Johnson. Eh, lo so. Purtroppo i cambi non sono il massimo. Però, insomma, non posso fare altrimenti. Io mi auguro che riusciamo comunque a fare qualcosa. Però questo 1-1 non mi convince. Anche Ilya è stanchissimo. Guzman, ci sei lì in mezzo? Fatica ad entrare in partita. Ah, perché già stai giocando. Giustamente. Ragazzi, ho avuto un'illuminazione. Luis Guglielmo. È lui l'uomo che ci porterà ai quarti. Fa già ridere. Dirlo. Ma... Come siamo messi male. Mamma mia, abbiamo una panchina devastata. Ho capito. E chi ci metto? Non posso mettere Corbo Terzino. Metto al massimo Mele. E Corbo... No, non avete capito niente. Infatti, me lo aspettavo. E Corbo qui, però... I cambi sono quelli, eh. Non abbiamo riserve. Guzman. Danoli, no. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Luis Guglielmo. Eh, Cortinovis. Mettici un po' di più. Mettici a fare... A fare sto passaggio. Mettici una mezz'ora in più. Mannaggia, mannaggia. Vabbè, raga. Tempi supplementari. Non ci volevano. Non ci volevano. Raga, tempi supplementari. Abbiamo ancora un cambio. E io il cambio dove lo faccio, però. L'uomo che ci ha portato fino a qui. Dane Scarlett. Ci farà sognare. Ci farà sognare, vero? Vero, Scarlett? Non puoi tradirmi oggi. Tu la vuoi quella coppa. Io lo so che la vuoi. Portiamola a casa. Zanoli. Per Luis Guglielmo. Non fare cavolo. Bravo, Luis. Guzman. Per Cittadini. Che poi la passa mele. Cortinovis. Dane Scarlett! Proprio lui! No, no, ma no! No! No, no, no! Eh no! Porca miseria, porca. Di quella porca. E vabbè. E vabbè. E vabbè. Intervallo. Niente, andiamo avanti. Stiamo dominando. Stiamo dominando. Li stiamo mettendo sotto. Ma non riusciamo a portarla a casa. Che sfiga. Che poi non mi ha fatto neanche vedere il fuorigioco di Scarlett. Non me l'ha fatto... Ma a me non sembrava... Aia, no, no. Ora no. Ok. Ok. Ragazzi. Siamo lì, eh. Eh vabbè. Anche te però. Mkhitaryan che la passi a Johnson di testa. Mkhitaryan, ma che stai? Fumà. È fumato. A Johnson. Perché lì? Mkhitaryan, Mkhitaryan è fumato. Fumatissimo. Manca pochissimo. I rigori mi fanno paura. I rigori mi fanno una paura, ragazzi. Bravo Corbo. Vi prego. Vi prego. Piccolo Johnson. L'uomo simbolo. Cosa fai Cortinovis? Ma cosa fai? Ma cosa fai? No, vabbè. No, vabbè. Raga. Che amarezza. Che amarezza. Veramente che amarezza. Allora. 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 Vabbè. Il migliore è penso Scarlet. A mani basse. Il secondo. Freddezza Guzman. Ok. Freddezza. Tredici. Corbo e Cortinovis. E poi. Dodici. Abbiamo. Zefi. E. Zefi. E cittadini. Undici. Johnson. E. Zanoli. Che ansia. Guglielmo quanto ha? Scusatemi. Mamma mia. Guglielmo ha tipo 10 e 4 di rigori. Fantastico. Ragazzi. Si va così. Si va così. Allora. Caci di rigore. Batte Scarlet. Il primo. Parte Scarlet. Dentro. Dentro. Dentro Scarlet. Dai. Mkhitaryan. Ti prego. Fatti perdonare quella punizione. Ti prego. Ma no. Ma guarda questo. Ma guarda questo. Palo goal. Palo goal. Incredibile. Arriva Guzman. Non ci credo. Non ci credo. Ma non è ancora finita. Gordon. è il momento di Corbo ragazzi. È il momento di Corbo. Mamma mia. Che tragedia. Di Lorenzo. Se segna. Praticamente vinto. Cortinovis. Rigore decisivo. Se sbaglia. Passa l'entra. Francoforte. Mamma mia. Che schifo. Di rigori. Che schifo. Di rigori. Ragazzi. A me. Quel goal. Annullato. Di Scarlet. Mi sta qui. Mi sta qui. Perché. Non. 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 Non me l'hanno spiegato. Non me l'hanno spiegato. Non me l'hanno spiegato. Siamo stati. Sfortunati. Uscire ai rigori. Uscire ai rigori. È bruttissimo. Comunque. È veramente bruttissimo. Purtroppo. Non è andata. Non è andata. Vabbè. Cortinovis. L'errore. Ma in realtà. Più che l'errore. Di Cortinovis. In tre. Hanno sbagliato. Sì. In tre. Hanno sbagliato. Fosse lui. Il problema è basta. Scusatemi. Vabbè. Comunque. Non è andata. Non è andata. Speravo che. Purtroppo. Ora. Testa al campionato. Eh. Dobbiamo salvarci. Ma. Abbiamo poche. In prossimo anno. Non sarà sicuramente. Europa. E che. Mi. 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 Siamo molto distanti. Dall'Europa. Vediamo. Al massimo. Le ultime. Si possono anche simulare. Vediamo dove arriviamo. Tanto. Secondo me. Arrivare a settimo. Ottavo. È impossibile. Metà classifica. Si può puntare. L'unica. L'unica adesso è salvarci. È salvarci. Devi provare a fare un altro anno. L'anno prossimo. In modo che. Tornare in Europa. È l'unica cosa che possiamo fare. Al momento. Sono tutti stanchi. E. Che dire. Lo capisco. Lo capisco. Ma io chi metto. Ma io chi metto. Raga. Ma io chi metto. Io non posso mettere nessuno qua. Sono tutti. Infortunati. Vabbò. Oggi Scarlett. Che comunque. È entrato bene. L'ultima partita. Mele. Entra. Corbo. E. Davanti. Zefi. È stanchissimo. E io devo per forza mettere. Luis Guglerme. Dai. Andiamo così. Purtroppo. Si è messi veramente. Molto. 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 E questa. Contro. Chi è già? Contro. La Lazio. Eh beh. Lazio che ha UEA in attacco. Tra le altre cose. Comunque. Sono veramente dispiaciuto. Per l'Europa League. Perché. Ci saremo meritati. Secondo me. Un finale diverso. Per come l'abbiamo giocato entrambe. Meritavamo qualcosa di più. Certo è che. Mkhitaryan. Ha fatto. Troppi errori. Nelle ultime partite. Ha concesso dei gol veramente imbarazzanti. E quindi. Se ne pagano poi le conseguenze degli errori. Se ne pagano le conseguenze. Ma. Vabbè. Ormai è andata così. Scarlett. Con calma. Dai. Salviamoci. E poi si resata per il prossimo anno. Scarlett. 1-0. Subito. Dai. Grande day in Scarlett. Dodicesimo centro. Stagionale. Buonissima stagione da parte sua. Veramente buonissima. Niente da dire. Niente da dire. Niente. Niente da dire. Perché è un giocatore che anche in Europa League è entrato. Aveva fatto pure gol. Me l'hanno annullato. Devo ancora capire il motivo. Però. Fa sempre il suo. Fa sempre il suo. A parte quando parla. Ai giornalisti. Dicendo che io ho sbroccato. Lì. Dovrebbe star zitto. Ma vabbè. È un piccolo difetto. Che si può forse perdonare. Chaka. Ilie. Nicola. 2-0. Mo facciamo. Vabbè. Mo vinciamo 50-0 con la Lazio. Quanto mi fa rosicare questo gioco. Ragazzi. Ma quanto mi fa rosicare questo gioco. È una roba. Mi fa impazzire. Mi fa letteralmente impazzire. Perché non c'ha senso. Cos'è successo? No ma. No ma la difesa. Dove. Dov'era? A prendere un caffè al bar. Cioè. Palese. Dove cavolo erano i difensori? Punizione per la Lazio. Traversa piena. Traversa piena. Stiamo rischiando. Dopo una partenza sprint. Stiamo un pochino rischiando. Tra l'altro. Ho visto ora che l'assist sul primo gol. È di Luis Guglerme. Chi se l'aspettava. Mkhitaryan. Apre tutto. Per Zanoli. Vede Luis. Che la passa benissimo. Nicolino. Nicolino al centro. Al centro. Ciaka. Ciaka. Segnato. Subito. Non mi sembrava gol. Ho detto. Aspetta. Aspetta. Non lo so. Poi ho visto che la palla ha toccato comunque l'arena. Ho detto. Vabbè. Sì. Questo è gol. Palese. Mamma mia. Una botta fortissima di Chiaka. Veramente devastante la botta. 3-0 contro la Lazio. Vabbè. Io continuo a dire che questa squadra è veramente incomprensibile. alterna prestazioni di monstre a cose inguardabili. Mamma mia. Qui. Qui Weha non so come abbia fatto a sbagliare. Non ne ho idea ma io ringrazio perché è stato importante il suo sbaglio. insomma. Va bene. Va bene. Comunque. Un 3-0 che ci mette abbastanza tranquilli per il discorso salvezza. Quanto meno. Perché è importante. Tra l'altro la Lazio ha fatto 0 tiri in porta. Statistica molto interessante. Molto inaspettata. Ma tant'è. Lazio che è sesta in classifica. Cioè perdiamo col Cagliari. 3-0 con la Lazio in un tempo. Io sono sempre più confuso da questo gioco. Ogni giorno che passa. Ho la confusione in testa. Zanoli. Buonissimo il recupero. Bane Scarlett. La palla visionaria. Dane. Ma che cavolo. Ma dai. Ma non puoi. Non puoi sbagliare queste robe. Dane. Ma come fai. Ma come fai. Ma come fai. Ora la squadra è un pochino cotta. Forse dovrei fare dei cambi onestamente. Però chi metto io in campo. Metto me stesso. Perché ormai. Cioè. Non è che abbia tante alternative. Iliev. Ma che. Ma che palla era questa. Vabbè. Così. De botto. Attenzione alla Lazio. Wea. Mkhitaryan. Eh. Se paravi anche nella scorsa partita. Eravamo i quarti d'Europa League. Non vorrei dire ma. Che anche sui rigori comunque. Mkhitaryan non c'è stato. Non c'è stato. Non c'è stato. Allora. Iliev è stanco. Mettiamo Guzman. Traoré è stanco. Mettiamo. Mettiamo Johnson. E Zanoli è stanco. Ci buttiamo Salvatore. Marsello è stanco. E ci mettiamo Francesco Mele. Mi vende a fare questi cambi per forza. Cambi obbligatori. Non c'è altro da fare. Dobbiamo reggere tre gol in venti minuti. Si può fare? C'è. Sarebbe importantissimo. Ce la faranno i nostri eroi a reggere questi tre gol. Johnson. Johnson. Cross. Rivedibile. Leggermente. Corbo. Per Sala. Ancora Corbo. Per Cittadini. Mele. Mele non sbaglia. Bravissimo. Come la gestiamo bene sta palla. Jim. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. C'è calcio champagne proprio. 4 a 0 contro la Lazio. Un gran gol. Una grande costruzione della manovra. Veramente grande costruzione. E sono 4. E sono 4. Vabbè. Io. Non sto capendo. Non sto capendo. Jim. Comunque la difesa della Lazio è palesemente inguardabile. Bravo Luis. Che recupero di palla. Guzman. Eh vabbè. Guzman. Dai. Su. Vai. Vai. Luis. Luis Guglielmo. 5 a 0. Veramente. Non sto capendo. Non sto capendo. Non sto capendo ragazzi. Non sto capendo. 5 pere rifilate alla Lazio. Così. Cioè. Senza neanche star lì a. A pensarci. È veramente poetico. E senza senso. Considerando. Le altre due partite che abbiamo giocato. Vabbè. Io. 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 Perché continuo a farmi domande? Per quale motivo? Cioè. Non devo farmi domande. È palese. Non devo. Non devo. È sbagliato. Johnson di testa. Addirittura. Jim. Jim. Ma dai. Ma dai. Ma cos'è? Sei a 0. Ma poi il portiere. Scusatemi eh. Ma Musso. Quello che penso io. Non può essere lui. Ma rega. Che ci fa Musso. Alla Lazio. Che ha 35 anni. Ok. Football Manager. Va tutto bene. Va tutto benissimo. Vero? Sta a posto? No vabbè. Comunque. Che partita. Ma che partita. Sei a 0. Ma io veramente non. Non mi capacito. Di questo sei a 0. Andiamo a più 11. Dalla zona calda. Bene. Molto molto bene. Però sei a 0. È incomprensibile tutto ciò. Io non riesco a capacitarmi. Cioè. Ehm. Ilie viene evidenza. Un gol. Una assist. Comunque che statistiche ilie. 10 gol. Sei assist. È tantissima roba. È veramente tantissima roba. Il Sassuolo potrebbe volere Corbo. E io glielo do. Non c'è problema. Non c'è problema. Io guarda. Sinceramente. Se vuoi anche adesso. In questo momento. Guarda. Sono qui pronto a trattare per Corbo. Quando vuoi. Quando vuoi. Io sono qui. Eh. Guzman sta migliorando. 3 stelle. Però buon giocatore per la serie B. Siamo in serie A. Quindi. Quindi insomma. Come dire. Ehm. No. Ma questo no. Cataldi no. Cipriano fuori 6-7 settimane. Bene. Sì. Eh. Però questo non mi sembra. Cioè. Ok. Da svincolato. Però raga. C'hai 22 anni. Cosa me ne faccio? Due stelle. È un po' scarsino. È un po' scarsino. Io. Cioè. Non. Non avrebbe senso. Comprarlo. Non avrebbe senso. San Magneto sta tornando. Anche Schmidt. Eh. Mkhitaryan. Ma Mkhitaryan. Sta un po' crescendo. Un pochino sì. Però boh. Non lo so. Tornano anche Yasin. Buongiorno. Vabbè. Wang. È segnato. Sono contento. Molto bene. La prossima tra l'altro è contro il Genua. Ok. Ok. C'è qualcuno interessante che si può prendere. Non. Non mi sembra. Bene. Cortinovis. Ah. Mancano tre mesi al suo. No. Perché titolare fisso. che titolare fisso di dove? In quale squadra? Accorto. Questa è di. Cioè. No. Non. Non sepude. Non sepude. Ovviamente ci abbassiamo un po' le cosine. Ecco. Dai. Un e nove. Beh. si può fare no? facciamo così perfetto beh direi che è un buon contratto devo dire anche perché al massimo al massimo si vende il prossimo anno sempre se si possa perché quando rinnovi un giocatore non è facile venderlo però insomma non posso neanche perderlo a zero sarebbe veramente una brutta roba soprattutto un giocatore che è rimasto che è stato rimasto non si dice che è stato tanti anni con noi cioè onestamente sarebbe un peccato che è questo Hunt? osserva osserva Romero ma intanto osserviamo questi promettenti giocatori e poi dopo vediamo se se è il caso di poterli prendere Zefi ha segnato bene sono contento allora venuti no ehm svinco la fine contratto ok Sormani svinco la fine contratto Palumbo statistiche è comunque un giocatore che potrebbe valere ammazza perché come ultima spiaggia? non ho capito è così ultima spiaggia perché ultima spiaggia? non vuole venire come ultima spiaggia non mi sembra così scarso onestamente cioè qua sono un po' strani allora hanno trovato questo Tommaso Lombardi che è un portiere libero offriamo il contratto ovviamente giovane promessa abbassiamo un po' mamma mia ah vuole già la resistione ammazza oh questo vuol dire che è forte buon tempi c'entra avanti beh ora è un po' un po' scarsino però col tempo col tempo sapete che non è male talenti ottimi lasciamo stare sono quelli straordinari prendiamo perché se no non c'ha senso onestamente non c'avrebbe senso Carminati torna ormai è finita la stagione Carminati quante volte ha giocato? due? tre? non so due giocatori sono leali ma quanti ne abbiamo di giocatori leali scusatemi non non ce lo dice? non ce lo dice qui no almeno poi non so se ne altre cose ma perché ultima spiaggia? ma che osservatori abbiamo raga? è buono questo il vice di Marsello però non può avvenire ma Carminati ma come il tuo scarso utilizzo in campo ma tutto a posto Carminati ti sei spaccato te da solo che devo fare io cioè oh ma un milione per Carminati anche no non te lo do neanche per sbaglio allora hanno svincolato qualche giocatore mamma mia non non so se sono guardiamoli però boh non credo che siano sto granchè onestamente non credo infatti ma questo perché è così scarso dicono ma ha 16 anni vabbè Corfinove ha rinnovato buon tempo ha firmato Jimmy infortunato e beh sempre belle notizie comunque arrivano da un giorno dall'altro Marco Bianco no scarsissimo scarsissimo aspetta questo terzino no vabbè non no 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 niente che ci interessi al momento purtroppo niente che ci interessi allora ovviamente con il genere giocheremo nel prossimo episodio che andremo un po' a vedere cosa fare perché purtroppo dopo questa eliminazione dall'Europa League è brutta bello la classifica mi piace e vabbè comunque abbiamo Genoa Milan Juventus ma che bel girone tranquillo che bel calendario tranquillo volevo dire che potremmo anche cioè nel senso dopo queste tre capire un po' come è l'andazzo se vediamo che ci salviamo senza problemi e non possiamo ambira di più andiamo dissimulata fino a fine anno che non c'ha senso stare lì a come dire perdere tempo vediamo valutiamo io ragazzi vi ringrazio mi dispiace per l'Europa League purtroppo l'anno prossimo non ci sarà l'Europa e che mi dispiace tantissimo ma vediamo cosa fare quindi alla prossima ciao ragazzi ciao ciao ciao